Questa Assemblea cittadina, che è la seconda, diciamo, così aperta e di chiamata pubblica, vorrei che iniziasse tenendo conto del fatto che dobbiamo proteggere questo processo. Non vogliamo assolutamente che a livello politico questo tipo di esperienza che si è innescata possa essere repressa in una logica posiziesca e quindi dobbiamo essere molto, molto attenti a capire qual è il valore anche politico di tutto questo. Un anno fa molti di noi erano qua in piazza Duca d'Aosta per riniziare un nuovo avvento per Milano che parlava di partecipazione, partecipazione attiva dei milanesi e di un'amministrazione che era al servizio di questi processi che volevano ricostruire dal basso Milano. Quindi è molto importante che noi chiediamo esplicitamente un appoggio politico di questa amministrazione perché ha il potere di farlo, ha il potere di sospendere altri tipi di logiche e mettersi in ascolto e in dialogo con questo che stiamo dicendo e non può stare zitta. Vi dico subito che non me l'aspettavo, non mi aspettavo assolutamente tanta gente presa e consapevole di star facendo qualche cosa di straordinario. non devo dirlo a voi, l'avete già capito, la cosa più importante che dovete creare è il coinvolgimento della gente che abita qui intorno. La gente deve sentire qui intorno che questo fatto è straordinario, che è il fatto di vedere dei giovani i quali si mettono a lavorare, a fare progetti, si immaginano anche cose paradossali, difficili, ma spongono nella posizione di tentare, di cercare di sviluppare e di realizzare, coinvolgendo tutti. Ecco, è straordinario, non mollate questa occasione, cercate di coinvolgere ma soprattutto bisogna fare qualche cosa di preciso verso il Comune. Il Comune deve capire che deve aiutarvi, che è un atto di dignità, di civiltà, di effettivo interesse alla politica, una politica diversa da quella che si conduce normalmente. E che questo catorcio che è indicato come morto, in piedi ma morto, inabitabile, inutile, voi lo facciate vivere. Io sono a vostra disposizione per tutto quello che si può fare.